Il campionato di eccellenza celebra domenica prossima l'undicesimo turno del girone d'andata. Le quattro formazioni pistoiesi sono chiamate a confronti importanti. La larcenese è trasferta all'ammare, il quadrata sul campo del temibile Urbino Taccola. L'intercomunale Monsummano ospita la Pro Livorno, il pesce usanese, si misurerà al Corsaro contro il Castelnuovo Galpagnana. Dopo aver vinto il campionato a San Marcavenza e conquistato le semifinali di Coppa Italia grazie al 2-2 di Pietrasanta, adesso per coronare la vostra lenta risalita nel gioco e nei risultati dovrete cercare di far fuori domenica al Corsaro il Castelnuovo Galpagnana. Mi aspetto una partita come sono state tutte fino ad ora, una partita sicuramente complicata, con una squadra che a tutt'oggi è imbattuta e quindi probabilmente vuol dire che ha dei valori importanti. Noi piano piano stiamo recuperando, diciamo, gran parte dei giocatori che sono stati assenti in questo primo periodo. La squadra piano piano ha cambiato un po' anche pelle, diciamo che ha cambiato anche mentalità perché si è trovata purtroppo in una situazione brutta di classifica. Nell'ultimo mese e mezzo abbiamo fatto dei buoni risultati, stiamo risalendo la china. Certo che se riusciamo a fare un altro colpo domenica, riusciamo a guadagnare tre punti, sicuramente ci potremmo quasi trovare a metà classifica, quindi faremo il massimo per cercare una vittoria, ben sapendo che comunque l'importante è comunque muovere la classifica. La squadra giallorossa è in leggera flessione, cosa pensate di ottenere dalla trasferta sul campo dell'Urbino-Taccola? Noi come sempre sicuramente andiamo per portare via la posta completa. Non sarà facile perché loro sono una squadra molto in salute, hanno vinto domenica 5-3, quindi stanno bene. Hanno due squalificati importanti, Marino che è una punta che ha fatto 11 gol, il capo annoniere dell'eccellenza. Però anche noi abbiamo delle difficoltà perché saranno assenti Marrani e Paolacci per infortuni, Noci. Cercheremo di fare il nostro meglio sicuramente, l'abbiamo preparata bene, la stiamo preparando bene la partita. Speriamo di portare via tre punti che sarebbero di fondamentale importanza.